Stasera non siamo entrati in campo, abbiamo sbagliato completamente l'approccio alla partita, mentre i loro membri dell'andata sono state molto determinate, cattive, incisive, da subito aggressive, battevano a mille e giustamente quando si è convinti di fare una cosa le cose poi escono e noi siamo andati subito sotto pressione e purtroppo non siamo riusciti a comportarci come avremmo dovuto, abbiamo avuto grossissimi problemi a reagire. E' vero che non avevamo Ferrari oggi e Valzelli è la prima volta che gioca come titolare e quindi sicuramente era in difficoltà, ma questo non giustifica il comportamento della squadra. A mio avviso abbiamo perso un'occasione per dimostrare noi stessi che possiamo anche reagire dinanzi a determinate aggressioni, anche se devo dire la verità che poi alla fine il terzo set qualcosa abbiamo fatto e non l'abbiamo perso così malamente come il primo e il secondo set. Detto questo mi ramarico un po' perché non sappiamo cogliere l'opportunità che abbiamo in questo periodo qui di giocare molte partite in poco tempo e invece il tutto ci sembra quasi un peso, mentre in realtà il giocare con una certa frequenza comporta, è vero allenarsi meno, ma in realtà siamo qui per giocare, per divertirci e quindi è un'occasione d'oro per noi di fare tante partite in Serie B e nel campionato giovanili. Mi dispiace che le ragazze invece vivano magari questa cosa qui più come un impegno gravoso, anziché come un'opportunità e una gioia di venire in palestra per giocare. Mi auguro che questa sconfitta bruciante vada a scavare un po' nel nostro orgoglio e ci permetta poi di reagire immediatamente da mercoledì contro Bedizzole.